ciao benvenuti a tutti questo video forse dico forse magari dedicato a chi ha un po meno di esperienza nel trading per vedere tra le tante correlazioni che esistono proprio nel mondo dei mercati finanziari quella che forse secondo me in maniera più precisa è una correlazione inversa veramente speculare al massimo sia vedremo due grafici che si muove in maniera contraria praticamente in qualsiasi condizione di mercato parliamo di euro dollaro che qui vediamo da 2017 sul time frame daily e poi parliamo della coppia che correla correlata all'opposto dollaro contro franco svizzero si può proprio chiaramente vedere come alla fine del 2017 il prezzo sul dollaro franco svizzero fosse sceso avesse subito un downtrend importante come invece su euro dollaro il prezzo fosse salito in maniera estremamente estremamente pulita e così via nel tempo c'è proprio questo movimento contrario tra due coppie molto chiare anche soprattutto nei momenti di alta volatilità qui vediamo dopo l'inizio del 2020 una salita molto ripida di euro dollaro e contestualmente eccoci qua una discesa molto ripida di dollaro contro franco svizzero proprio si può vedere chiarissimamente il movimento opposto delle due coppie interessante è la situazione attuale sia qui siamo su dollaro contro franco svizzero da un trend al ribasso e poi questa area di possibile barra probabile accumulo per cui si cominciano a formare dei supporti che abbiamo un doppio minimo e poi piano piano dei supporti sempre a un livello più alto dei supporti crescenti vediamo anche come si siano formati due minimi crescenti a testimoniare che probabilmente è il trend ribassista potrebbe essere una fase di inversione si va proprio a vedere in maniera molto chiara come si è formato un canale di congestione una sorta di rettangolo e poi è stato rotto al rilascio proprio con la congela ovierna oggi è il 30 di settembre viene al momento perlumino validato come supporto abbiamo la più classica delle rotture e reteste in atto in questo caso potrebbe essere plausibile vedere una nuova ripresa dei corsi al al rialzo fatto sta che la strategia che può essere definita come come l'ho appena vista è bene sempre andarla verificare sulla coppia sulla coppia inversa per avere una conferma ecco in questo caso vediamo sempre chiaramente sul time frame day al contrario di dollaro franco svizzo euro dollaro ha avuto una salita e anche qui vediamo nella parte opposta chiaramente del grafico qui è un downtrende quello che lo vediamo in fondo qui in alto questa fase di congestione dove si formano dei nuovi massimi e poi successivamente cominciano a formarsi dei massimi decrescenti e vediamo come chiaramente anche qui in maniera speculare proprio a dollaro contro franco svizzera si si può evidenziare si può isolare un canale un rettangolo che viene rotto a ribasso e siamo in una fase di pullback chiaramente con un minimo di tolleranza in questo caso il test non è ancora avvenuto anche se queste spike molto differenti ci danno un minimo di difficoltà su dove andare a posizionare la parte bassa del rettangolo se usassimo questa come livello supportivo dovremmo posizionarci in questo modo e quindi dare per retestata oggi la parte bassa del rettangolo fatto sta che comunque due coppie confermano in maniera speculare cioè contraria anche con la medesima con il medesimo diciamo discorso temporale che proprio oggi abbiamo il retteste e proprio oggi e posizionando così la 30 anni abbiamo il retteste quindi questo ci conferma e probabilmente potremmo assistere o di nuovo alla salita quindi una falsa rottura e quindi rientrare in congestione in questo caso vedremo la stessa situazione sul dollaro contro franco svizzero oppure potremmo vedere da domani una ripresa del dollaro e quindi una ripresa del dollaro potrebbe essendo euro donnero donna la valuta di destra potrebbe qui il prezzo scendere per cui ecco sempre bene utilizzare quando si va a fare analisi una delle due coppie di utilizzare la anche la coppia inversa per avere per avere le dovute conferme che in questo caso come spesso abbiamo sono sono un essere un saluto a tutti e buon trading